Allo Space Telescope Science Institute, un centro gestito per conto della NASA all'Università Johns Hopkins a Baltimore sulla costa orientale statunitense, troviamo tra i vari specialisti gli sviluppatori di immagini scientifiche, figure professionali specifiche che si occupano di prendere le immagini grezze in bianco e nero proveniente dai telescopi spaziali per estrarne le informazioni significative producendo immagini a colori. Joseph Di Pasquali e Alissa Pagan, protagonisti di questo video NASA, lavorano in particolare nel gruppo che si occupa del nuovo James Webb Space Telescope. Ecco un bel esempio di come appaiono le immagini web prima dell'elaborazione. Anche se a prima vista si vede ben poco, qui abbiamo una panoramica che contiene migliaia e migliaia di galassie vecchie di miliardi di anni. Bisogna tenere conto che telescopi come il web sono progettati pensando soprattutto a obiettivi scientifici, ma non è raro che venga catturata anche un po' della straordinaria bellezza del cosmo. Prima dell'elaborazione finale, i dati hanno già fatto un lungo percorso, a partire dalla proposta scientifica alla base delle osservazioni su uno specifico soggetto. Una proposta che include molti dettagli, come i filtri che web dovrà usare in fronte alle sue camere. I dati sono poi passati attraverso un sistema di calibrazione che corregge gli effetti strumentali. Per iniziare a comporre immagini a colori da questi dati, occorre scaricare i relativi file da un archivio chiamato must, a cui peraltro può accedere chiunque utilizzando il nome o le coordinate celesti del soggetto. Anche se appaiono nere, queste immagini in realtà contengono un'enorme quantità di informazioni. I rilevatori di web sono infatti così sensibili che catturano più luce di quella che i nostri occhi o schermi possono elaborare. Quindi si devono usare determinate tecniche come stretching e compressione dei toni, per far emergere i dettagli più deboli, preservando quelli più luminosi. Successivamente vengono rimossi eventuali artefatti o anomalie. Ottenere immagini a colori non è certamente solo un vezzo estetico, ma anche una necessità scientifica per visualizzare in modo comprensibile i dati raccolti dal web. Telescopio, che ricordiamolo, è sensibile alla luce infrarossa, un tipo di luce invisibile ai nostri occhi. Per dirla semplicemente, occorre tradurre questa luce invisibile in colori che possiamo vedere e valutare. Per ogni soggetto web cattura più immagini utilizzando diversi filtri, progettati per evidenziare specifici elementi chimici o molecole. Vengono quindi combinate queste immagini per crearne una composita, assegnando colori diversi alle singole immagini in base alla lunghezza d'onda della luce che rilevano. Dopo aver tradotto i dati da infrarossi in colore visibile, è il momento di considerare l'estetica e utilizzare normali principi fotografici per enfatizzare determinati dettagli e garantire che l'immagine sia visivamente coinvolgente, pur mantenendo l'integrità dei dati originali. Anche la composizione è una parte importante di questo processo. A volte basta semplicemente ruotare un'immagine per attirare l'attenzione su informazioni importanti. Altre volte è meglio ritagliare le immagini per creare un aspetto più equilibrato. Peraltro non c'è un sopra definito nello spazio, quindi si può decidere di volta in volta il verso di una composizione. Webb è dotato di due camere principali, NIRCAM nel vicino infrarosso e MIRI, lo strumento che opera nelle lunghezze d'onda più lunghe del medio infrarosso. NIRCAM ha a disposizione 29 filtri, mentre MIRI ne ha 9. Esistono numerose combinazioni di filtri che possono essere visualizzate in un'immagine Webb. I colori vengono assegnati in ordine cromatico, blu, verde, rosso, dalle lunghezze d'onda più corte a quelle più lunghe, per entrambe le camere di Webb. A seconda del contenuto di ciascuna immagine, viene deciso quali filtri mantenere nell'immagine composita finale, in base alla qualità dei dati, al tipo di scienza richiesto e all'aspetto generale. Spesso c'è l'opportunità di combinare le immagini provenienti da entrambe le fotocamere, il che può produrre risultati sorprendenti. Tutto questo processo può essere ripetuto a casa da chiunque ne abbia interesse, scaricando le immagini grezze e provando ad assegnare i colori secondo il gusto e criterio personale. Grazie a tutti.